al mio canale Anna Italia benvenuti e veramente dormiamo mangiamo in macchina questa nostra avventura siamo fuori, fuori montagna a Miata e dormiamo qui e mangiamo qui e non scherziamo perché a noi piace avventura non vogliamo albergo di 5 stelle vedete tutti i cuscini abbiamo due cuscini, siamo attrezzati molto molto bene, nostra esperienza non è per la prima volta molto comodo, questo ho comprato per la mia casa, perché la mia casa mi piace avere elegante e accogliente ho visto qua camminando, ho comprato questo set 30 euro toscano nostro voleva 30 euro, io ho detto 25, non posso dare più, lei ha detto va bene, prendi 25 nostra colazione, ora mangiamo, andiamo camminare, camminare e così amici, un po' fresco, però va bene di notte si dorme bene sotto questa coperta vedete io ecco qua però vestiti abbiamo dimenticati a casa abbiamo solo maniche corte un po' problema e così pigiama c'è, manica lunga ma io sono ucraina se per caso qualcuno mi sente per la prima volta sono ucraina amici non sono scappata da guerra perché ora c'è guerra questa orribile io ho venuto 25 anni fa e vivo in Italia tantissimi anni e c'è lo mio figlio molto grande che già c'è la sua famiglia e vive in Svizzera lui cittadino italiano da tanti anni come me ma siamo di origine ucraina per motivi di lavoro lui vive in Svizzera e sua mamma fa avventura in macchina dorme in macchina bello così a noi piace tanto così e guardate abbiamo tutto tutto e di più seguite il mio video chi non ha visto il video precedente guardate ancora e orzo caffè latte non deve mancare latte orzo questo qua conat abbiamo conat biologico abbiamo macchinetta in macchina senza zucchero amici sempre senza zucchero da 20 anni forse 23 anni senza zucchero né caffè né perché già dolce latte a casa non non beviamo latte a casa non beviamo amici è mio uomo italiano se qualcuno vede per la prima volta è italiano lui e questi abbiamo vinto siamo andati in montagna a Trentino Alto Agge abbiamo indovinato e abbiamo vinto questi qua perché abbiamo indovinato formaggi formaggi quali formaggio si sposa con quale marmellata gorgonzola con quale miele si sposa con quello con quello e abbiamo indovinato tutto e abbiamo ho vinto due questi nostri amabili bel ricordo nostri tazze questo ho fatto io non lo so se c'è nel mio video c'è guardate ricotta io cuscino molto salutare perché tanta ricotta noci noccioline di bosco e cereggi cereggi ho avuto congelati questi cereggi congelati nel congelatore e metto congelati sotto di questo dolce io ho dato no non c'è ne frolia perché frolia vuole tanti grassi vuole tanta farina quella bianca no 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 qui ci sono sbrisciolati fette biscottate integrali sei fette però una torta molto grande una torta di 26 26 centimetri di larghezza diametro amici diametro abbiamo anche salame toscano vedete non vi spaventate che c'è un pochino grasso però noi durante altri grassi non mangiamo carne quasi non mangiamo mangiamo tanti fagioli infatti abbiamo già avuto qui abbiamo mangiato fagioli e solo unica volta abbiamo presi anche anche salsicce per una volta però a casa niente salsicce facciamo vita sana e prendiamo integratore integratore D molto importante prendete anche durante l'estate C un gruppo B amici sono orgogliosa perché ho fatto io questa marmellata e a casa ce l'ho ancora piena pentola in frigorifero devo mettere in vasi pochissimo zucchero sta in frigorifero e si mangia tutti i giorni sul pane integrale assolutamente integrale questo pane io pago 5 euro 60 per un chilo prendiamo sempre una pagnotta che costa 2 euro mangiamo anche due giorni il pane sono qualche bruschetta con aglio tanto aglio biologico tanto aglio amici ricarica c'è e così amore prendi ancora questo dolce perché io non mangio amare lasciami pezzettino aspetta lasciami così pezzettino ecco qua vai prendi prendi perché io non ho grande fame finisci tu e e così amici iscriveteci al mio canale se siete venuti fino ora vi ringrazio tantissimo scrivetemi mi piace fare video tantissimo vi racconto tutto io sono molto spontanea diretta io quello che penso io lo dico siamo diversi noi da Ucraina ora c'è guerra in Ucraina scappate tanti da Ucraina muoiono tutti i giorni qualche giovane mamma soffre figlio non c'è figli orfani babbo non c'è siamo in Toscana si parla babbo da noi papà non c'è speriamo che questa guerra finisce presto 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 già subito oggi in questo minuto che devo dire grazie di tutto grazie di like scrivetemi qualcosa scrivetemi qualcosa scrivetemi qualcosa così almeno ci conosciamo meglio e da dove venite che fate che vita fate e così io comincio ora a mangiare e vi salutiamo amici vi salutiamo arrivederci ciao ciao a presto nel prossimo video racconto qualcosa più interessante ogni volta racconto qualcosa di me cose molto interessanti di me perché ce l'ho da raccontare amici ce l'ho tanto da raccontare c'è il tetto vedete 18 gradi c'è voglia di sraillarsi e guardare il cielo e basta che c'è il tetto